E' stata presentata questa mattina al Palazzo dell'emiciclo all'Aquila la 14esima edizione della mostra Mercato dei prodotti tipici e dell'artigianato del Parco Naturale regionale Sirente Velino che è in programma il 28 e 29 dicembre nella palestra polivalente Sebastiani a Rocca di Mezzo. La manifestazione è stata sostenuta dal consigliere regionale Lorenzo Berardinetti presente alla conferenza stampa di questa mattina. E' importante questa 14esima manifestazione perché fa sì che tutti i produttori locali vengano messi in un unico contenitore di questa mostra Mercato e far conoscere i loro prodotti sul territorio. L'ultima regge approvata da Regione Abruzzo che su mia proposta è il riconoscimento del marchio tipico dei ristoranti tipici e tutti questi prodotti possono essere benissimo utilizzati come i ristoranti tipici d'Abruzzo che verranno riconosciuti da qua a breve. Sono vicino molto a tutti i parchi e riserve. Essendo sindaco di un piccolo comune mi rendo conto che lo sviluppo dei nostri interni passano anche attraverso lo sviluppo dei parchi e delle riserve. Interverranno circa 30 aziende con i loro prodotti che saranno prodotti dell'agricoltura e anche prodotti dell'allevamento, quindi salumi, prodotti lattiero caseari e non dobbiamo dimenticare l'artigianato che comunque costituisce una forma di trasmissione culturale proprio delle tipicità e dell'identità dei luoghi.